Benvenuti nel video dedicato all'orlo semplice. Questo è il fondo di un pantalone ed è un campione. Questo orlo si può eseguire però in tutti i modelli di cui c'è bisogno fare l'orlo. Può essere una gonna, posso essere il fondo di una manica, di una giacca, qualsiasi modello. Ho già eseguito quelle che vengono chiamate punti mogli e vi ricordo che c'è un video dedicato a questo punto dal titolo Come si eseguono punti mogli o marche per segnare contorno carta modello. In questo caso io l'ho già segnato utilizzando quel punto. Quindi questa linea che mi indica l'orlo sono questi punti. Ho già messo assieme il pantalone del davanti e del dietro, cucito e anche rifinito. In questo video ci saranno due partenze diverse. Questa con le marche e quella con il gesso. Poi l'esecuzione è uguale identica sia per le marche che per il gesso. Arrivati a questo punto che ho segnato, in questo caso con le marche, bisogna rifinire il fondo con uno zig zag oppure con taglia e cuci. Poi giro il tessuto sul rovescio del tessuto, giro il modello sul rovescio e piego verso l'interno il mio orlo. Si chiama orlo semplice perché ho solo una piega, lo giro su solo una volta. Devo trovarmi le marche esattamente sulla piega. Poi bisogna mettere spilli qui in alto e anche un'imbastitura, farla qui in alto. Vi ricordo che questo modello io devo ancora rifinirlo. Nella seconda parte vi farò vedere come, invece delle marche, utilizzare il gesso e il tutorial arriverà fino alla fine con la cucitura a macchina. Questa è la seconda parte del video dedicato all'orlo semplice. Per orlo semplice intendo quell'orlo che basta piegare semplicemente il tessuto una volta all'interno. Questa tecnica si utilizza sia per le gonne, per le maniche, per i pantaloni. Questo è un campione ed è un fondo di un pantalone. Bisogna prima aver già cucito e rifinito la parte. Poi vado a misurare l'orlo che mi viene indicato dal cartamodello. Lo misuro e lo riporto sulla stoffa, sul dritto del tessuto. Faccio dei segnetti. Tutto attorno. Dopo aver segnato con il gesso tutto il contorno del mio orlo, il passaggio successivo è quello di rifinire il margine in fondo. Ricordo prima segnare e poi rifinire. Perché se si rifinisce con la taglia ai cucci, un pochino si va a tagliare il tessuto. E perciò poi la misura non sarà più uguale. Ecco qui la rifinitura, in questo caso con la taglia ai cucci. Se il tessuto non sfila per niente, si può anche evitare. Arrivati a questo punto, giro il mio modello sul rovescio del tessuto. Ricordo che questo è il dritto del tessuto. Lo giro sul rovescio e piego il mio margine in fondo, in modo che il gesso che prima mi indicava l'orlo, si trovi esattamente sulla piega della stoffa. Metto spilli in alto, qui appena sotto la mia taglia ai cucci. Metto tutti gli spilli attorno. Ecco qui il risultato. Quando inizio a piegare il tessuto, parto sempre dove ci sono le cuciture, in modo da far coincidere la cucitura esternamente con quella internamente. Arrivati a questo punto, bisogna imbastire anche l'imbastitura il più in alto possibile. La faccio qui così. Ecco qui l'imbastitura. Ora vado con la macchina da cucire. Per essere certa che la cucitura a macchina mi venga dritta, quindi parallela al fondo, la prima cosa che faccio è una stiratura sulla piega della stoffa. E poi non utilizzo la mia imbastitura per andare dritta. E non utilizzo neanche il segno dove ho passato la taglia ai cuci. ma eseguo la cucitura sul dritto, quindi tenendo il tessuto in questo modo, e seguo delle tacchette che ci sono sulla macchina da cucire, in modo che la mia cucitura mi venga a questa distanza dal fondo. Quindi uso come partenza il segno della mia imbastitura perché mi va bene che la cucitura venga qua. Però poi seguo la tacchetta. La partenza per la cucitura a macchina la eseguo dove si vede di meno. In questo caso, se è un fondo di un pantalone, la parto prima della cucitura dell'interno gamba. Questa è la cucitura dell'interno gamba. Scriviamo l'interno gamba. E questa è quella del fianco. Quindi inizio qui e inizio prima, un centimetro e mezzo prima. Ecco qui. Per andare dritta, seguo le tacchette della macchina da cucire. In questo caso, seguo questa. E vado. Ecco qui la cucitura effettuata, tenendo come riferimento il margine e una tacchetta della macchina da cucire. Ci sono anche delle calamite apposta per andare dritte oppure si può anche usare del nastro colorato per segnare il limite. così è parallelo al fondo e all'interno la cucitura deve risultare non più bassa rispetto al margine. Al massimo, come in questo caso, 7 mm. Altrimenti il margine rischia poi di piegarsi. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao! 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 Ciao!